La tradizione tutta pratese per Natale Santo Stefano con l'ostensione del Sacro Cingolo e la proclamazione dei vincitori dello Stefanino d'Oro. Sanità, il punto sui lavori, l'ASL conta di far partire a febbraio il cantiere per la nuova palazzina dell'ospedale. Il 2022 si chiude male per il Prato, Biancazzurri battuti in casa 2 a 0 dallo Scandici. Una buona giornata dalla nostra redazione, ben trovati a nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. A Prato Natale e Santo Stefano sono nel segno della tradizione. Il 25 si rinnova il rito dell'ostensione del Sacro Cingolo. Il 26 festa del patrono e il solenne pontificale nel corso del quale verranno proclamati i vincitori dello Stefanino d'Oro. Le chiese e parrocchie di Prato sono pronte a celebrare la veglia solenne nella notte di Natale. Come lo scorso anno le funzioni sono tornate all'orario tradizionale e anche le restrizioni sono state completamente eliminate con il ritorno della stretta di mano al momento dello scambio della pace. Il giorno di Natale a Prato la festa è doppia con l'ostensione del Sacro Cingolo. Anzi, quest'anno possiamo dire tripla perché la solennità cade di domenica. Il Vescovo Giovanni Nerbini celebra la prima messa del giorno di Natale per i detenuti del carcere della Dogaia. Poi nel pomeriggio, dopo il canto dei Vespri, in programma alle ore 17, il Vescovo ufficia l'ostensione del Sacro Cingolo all'interno del Duomo e dal pulpito di Donatello per tutti i fedeli della città. A seguire l'esposizione del sasso di Santo Stefano. In processione sarà portato dalla cappella del Sacro Cingolo all'altare maggiore il reliquiario contenente il sasso che la tradizione vuole sia stato uno di quelli con cui fu lapidato il Santo Patrono di Prato. Il giorno dopo, il 26 dicembre alle ore 10, si celebra il solenne pontificale per la festa del Patrono Santo Stefano. Presiede Monsignor Nerbini e concelebra il clero diocesano. Al termine della messa, come sempre trasmessa in diretta su TV Prato, il Vescovo annuncia i nomi delle aziende vincitrici della tredicesima edizione del Premio Santo Stefano per la tenuta del lavoro a Prato. Il riconoscimento, chiamato anche Stefanino d'Oro, viene consegnato alle aziende, non solo del comparto tessile, che si sono contraddistinte per la cultura e l'operosità capaci di fare impresa in modo etico e rispettoso dei valori del lavoro e della concorrenza, come si legge nello statuto del premio. Nel pomeriggio, dopo i vespri solenni delle 17, reposizione della reliquia di Santo Stefano. Un incontro cordiale e fattivo, quello svoltosi ieri, tra Erika Mazzetti, deputata di Forza Italia, e il ministro Piantedosi sulle stazioni di polizia cinese in Italia. Il ministro spiega Mazzetti, è pienamente informato sul caso intento ad appurare tutte le responsabilità. Le indagini sono in corso. Un governo di centrodestra non può e non intende tollerare situazioni di illegalità o ancor più di polizie parallele e non riconosciute sul territorio nazionale, afferma Mazzetti. Il ministro ha assicurato attenzione al caso e alla comunità pratese. A questo proposito, Mazzetti ha posto all'attenzione di Piantedosi il problema delle poche risorse umane in dotazione agli organi di sicurezza presenti a Prato, dicendosi ottimista sulla risposta del governo. Parliamo adesso di sanità. L'ASL conta di far partire a febbraio il cantiere per la nuova palazzina dell'ospedale. Nei primi mesi del 2023 è prevista anche la gara per costruire il nuovo distretto sanitario di San Paolo. Salvo ricorsi da parte delle aziende escluse, possibili fino al prossimo 10 gennaio, l'inizio del 2023 coinciderà con l'assegnazione dei lavori per la costruzione della nuova palazzina dell'ospedale di Prato. A febbraio 2023 è infatto previsto l'avvio del cantiere del nuovo edificio, 112 posti letto destinati all'area medica, oncologica, ambulatori e spazi per il Dipartimento di Salute Mentale, ampliamento di cui il Santo Stefano ha mostrato di aver bisogno fin dalla sua inaugurazione nove anni fa. Il punto sulla sanità pratese, i lavori in corso e quelli futuri, i cui tempi di realizzazione sono più volte slittati, sono stati oggetto di un incontro tra i vertici dell'ASL Toscana Centro e il Comune di Prato. Le nuove tabelle di marcia indicate oggi riguardano anche altre opere. Dovrebbero terminare entro fine gennaio i lavori per la Cassa di Espansione del Vella, funzionali alla messa in sicurezza idraulica dell'area ospedaliera e alla riapertura del sottopasso di Via Ciulli, chiuso dal tragico allagamento dell'ottobre 2010. Spostandosi all'area dell'ex Misericordia e Dolce, Comune e ASL assicurano che dopo oltre un anno è in via di risoluzione il blocco dovuto al ritrovamento di serpentino verde sbriciolato, contenente fibre di amianto, al di sotto dell'area dell'ex ospedale. Entro un mese, assicura l'ASL, sarà presentato il progetto di bonifica e inizieranno i lavori di circa 45 giorni, al termine dei quali sarà consegnata l'area al Comune di Prato per la realizzazione del Parco Centrale. Altro progetto più volte slittato è quello del nuovo distretto di San Paolo, per il quale si è dovuto procedere ad un aggiornamento dei costi, coperto dalla ASL, sulla base del nuovo prezzario regionale del 2022. Nei primi mesi del prossimo anno uscirà la gara per i lavori di costruzione dell'edificio di 1830 metri quadrati, in via Toscanini, in un'area che l'ASL ha acquistato dal Comune, compresa tra le scuole mascagni e il parcheggio esistente. Più lontana la realizzazione di altri due interventi, con fondi del PNRR, l'ospedale di comunità da 20 posti letto al centro Pegaso, ex Creaf, per cui è in corso la progettazione definitiva, e la casa di comunità presso la vecchia palazzina di anatomia patologica dell'ex Misericordia e Dolce, per cui si attende la conferenza dei servizi. Iari pomeriggio, secondo appuntamento con ITE di Toscana Oggi, ospite dell'incontro, l'assessore all'urbanistica del Comune di Prato, Valerio Barberis, invitato a parlare del grande progetto di forestazione urbana, il piano pensato dall'amministrazione comunale, per cambiare il volto della città attraverso la piantomazione di alberi e la previsione di nuove aree verdi. L'iniziativa si è tenuta nel Museo di San Domenico, allestito per l'occasione come un'elegante sala da tè. Il prossimo appuntamento, in programma mercoledì 18 gennaio, vedrà come i relatori il Vescovo Giovanni Nerbini e il giornalista Claudio Turrini, che parleranno di Giorgio Lapira e i giovani, raccontando la loro personale esperienza con il Sindaco Santo di Firenze. Convenzione tra Estraclima e Arci Prato per impianti fotovoltaici chiavi in mano. L'obiettivo dell'accordo è quello di ridurre i costi legati al caro energia e allo stesso tempo favorire la sostenibilità ambientale. Sentiamo quindi i dettagli del progetto. Abbattere i costi in bolletta, risparmiare energia e dare una mano all'ambiente. Con questi obiettivi Estraclima, la società del gruppo Estra, attiva nell'efficientamento energetico e Arci di Prato, hanno sottoscritto una convenzione per impianti fotovoltaici chiavi in mano. Il primo circolo a firmare il contratto è stato il circolo Fiorenzo Favini di Via Po. Noi veniamo da un periodo, e ancora ci siamo dentro, di prezzi dell'energia molto alti, sia energia elettrica che gas. Quindi questo si abbina a una necessità di essere sempre più attenti ai temi ambientali e al rispetto del clima. E quindi questi due aspetti hanno fatto sì che nascesse l'esigenza da ambo le parti di provare a fare una convenzione, un accordo che possa incentivare i circoli Arci a dotarsi di mezzi di produzione dell'energia elettrica a impatto sostanzialmente zero. L'accordo valido due anni si pone come obiettivo la realizzazione di impianti fotovoltaici chiavi in mano a servizio dei 54 circoli presenti nella provincia di Prato, con l'istino prezzi bloccato per sei mesi e rivalutazione semestrale che garantisce la stessa convenienza rispetto alle stesse condizioni di mercato. Estraclima si occuperà di tutto, dall'analisi di fattibilità fino alla consegna dell'impianto finito collegato alla rete elettrica nazionale. Il periodo è un periodo di forti preoccupazioni appunto per la tenuta economica dei nostri circoli che sono curati, seguiti da dirigenti che sono volontari e sentono molto il carico delle questioni energetiche ed economiche però cercano comunque di guardare la prospettiva futura e quindi questo accordo appunto è un passo verso la costruzione di un modello sempre più sostenibile anche di circoli e di case del popolo. Passiamo adesso allo sport, al calcio finale d'anno amaro per il Prato, battuto ieri pomeriggio 2 a 0 dallo Scandicci. I biancazzurri prendono due gol nei primi dieci minuti, poi falliscono un rigore e chiudono in nove, espulso anche l'allenatore Brando. Si chiude malissimo il 2022 per il Prato, sconfitto in casa 2 a 0 dallo Scandicci penultimo in classifica. Per i biancazzurri è la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di sabato scorso ad Agliana. L'avvio per il Prato è shock, dopo sette minuti i biancazzurri vanno già sotto. Sinisgallo va via dopo un'uscita in anticipo sbagliata di Shannamè e serve un cioccolatino a Saccardi che da due passi in sacca. Passano tre minuti e lo Scandicci raddoppia. Da una rimessa laterale la difesa pratese non riesce ad allontanare. La sfera finisce sulla testa di Vitali che in pallonetto beffa un incerto Nucci. A questo punto lo Scandicci arretra e cerca di difendersi mentre il Prato prova a far giochi a trovare il gol che riaprirebbe la gara ma la reazione si infrange sul palo colpito da Mobili al 41esimo. Alla fine del primo tempo Brando viene espulso per proteste. Nella ripresa il Prato scende in campo combattivo e dopo aver impegnato il portiere ospite con Mobili può soffrire di un rigore per un fallo di mano. Colombi va sul dischetto ma si fa ipnotizzare dagli 11 metri da Dainelli. L'episodio che avrebbe potuto riaprire il match di fatto lo chiude. Lo Scandicci concede pochissimo. Nucci deve superarsi per negare il 3-0 a Santeramo poi Quassi viene espulso per un fallo di reazione e Masini viene cacciato per doppia munizione. Il Prato chiude addirittura in nove. Adesso la sosta. Prossimo impegno l'8 gennaio quando al lungo Bisenzio arriverà il Ravenna per la prima di ritorno. Credo che sicuramente abbiamo pagato un inizio non buono stranamente tra l'altro perché è uno dei nostri punti di forza solitamente una squadra che è andata spesso in vantaggio nei primi 10-15 minuti la squadra sa che è importante approcciare bene non siamo stati proprio bravissimi poi insomma credo che a livello di mole di gioco credo che abbiamo creato tanto abbiamo fatto molto chiaramente non era facile abbiamo trovato poi una squadra che si è chiusa negli ultimi 30 metri la cosa peggiore che dovevamo fare che potevamo fare era quella proprio di andare sotto così e poi insomma non abbiamo avuto la probabilmente la qualità necessaria per per l'adrezzale Ed è il momento delle previsioni del tempo come sempre a cura del Consorzio Lamma Un caldo rosso saluto a tutti ben trovati all'appuntamento con il meteo a cura del Consorzio Lamma l'immagine dal satellite ci mostra un debole impulso perturbato che avvicinandosi alla nostra penisola perde progressivamente consistenza a causa della presenza di un campo di alta pressione alta pressione che andrà ulteriormente consolidandosi a partire proprio dalla fine settimana ma andiamo a vedere il tempo previsto per la giornata di oggi una giornata grigia con nubi basse qualche piovigine intermittente possibile in particolare sulle zone settentrionali in prossimità dei rilievi venti sono di libeccio in genere moderati su costa al cipelago deboli variabili invece nelle zone interne con mari mosse uno sguardo anche alla giornata di domani iniziamo dalla mattinata non cambia granché ancora molte nubi qualche piovigine in particolare sulla costa con forti venti di liveccio sul nostro litorale e mari mossi o molto mossi le temperature minime sono attese in ulteriore lieve aumento quindi su valori ampiamente al di sopra della media uno sguardo al pomeriggio dove non sono attese grosse variazioni ancora cielo nuvoloso o molto nuvoloso per nubi basse qualche breve piovigine insignificante i venti di libeccio i mari mossi o molto mossi e le temperature fino a 16-17 gradi è tutto, grazie per l'attenzione e con il meteo è tutto vi ricordiamo alle 17.30 in diretta dalla Chiesa Parrocchiale dell'Ascensione Alpino la Re Città del Rosario a seguire la celebrazione della Santa Messa Feriale l'informazione di TV Prato torna questa sera alle 20.30 grazie per averci seguito e arrivederci